Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ovviamente prendiamo il nostro tempo per concentrarci, per prepararci, poi un'ora e mezza, due ore prima della partita ci troviamo insieme negli spogliatoi, ci prepariamo e iniziamo il riscaldamento. Voi affrontate insieme le sconfitte? Questa è una domanda tosta perché le sconfitte sono sempre una parte più brutta forse, però c'è sempre qualcosa da imparare anche dalle sconfitte. Come si diventa giocatori così bravi? Incide più il talento o l'impegno? Ha visto l'intervista e lo sa? Sicuramente il talento. No, a parte gli scherzi, sicuramente il talento è importante, però senza lavoro duro non si va da nessuna parte. Il gioco di squadra è importante, ma come fate ad accordarvi quando le pensate in modo diverso? L'ultima parola ce l'ha sempre il coach, l'allenatore, quindi di sicuro quello è quello che conta e poi noi eseguiamo. Cosa ne pensi della recente perdita di Kobe Bryant? No, è stata tosta perché io vi devo dire la verità sono stato male, cioè nel senso ho pianto anche perché è stato più o meno uno dei motivi, forse è il motivo per il quale gioco, è stato il mio giocatore preferito dalla mia infanzia. Avete dovuto rinunciare a qualcosa per arrivare a questo livello di bravura? Ma in realtà non sono tanto bravi. Qual è la vostra dieta? Ad essere sincero non seguo nessuna dieta, mangio, eh, sono best. Qual è il tuo migliore basket? Potete mostrare a chi c'è? Qual è il migliore basket? L'ultimo gioco contro Casta Mo. Casta Mo. Proprio domenica scorsa dovete sapere che all'ultimo secondo ha segnato il canestro della vittoria. Ma io potete ripetere questo ora. Potete dire il tradizionale croatianale? C'è molta carne, qualche tipo, è cevarci. Cervarcici. Cervarcici. Il migliore di me. Qual è il più importante gioco che hai mai giocato? È stato l'anno scorso l'anno. È stato un gioco per rimanere nella divisione di Bostia. Ti piace l'Italia? Si, mi piace molto. L'Italia è l'Italia. L'Italia è l'Italia. L'Italia è l'Italia. Per me il mio preferito è l'Inter. Oh! Inter è l'Italia. No, no, no. Juventus. L'Italia. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti